Secondo ristorante in una bellissima location siamo al centro di Parigi tra il Panteo e i giardini di Lussemburgo sembra un sogno ma essendo un ragazzo determinato è quello che ci voleva realizzare due sogni in due anni c'è tanta gente anche se siamo in post-covid e credo che chi lavora bene con ingredienti di qualità con le giuste norme post-covid e lavora con passione sugli impassi quello che prevede il disciplinare della pizza napoletana contemporanea è veramente un onore per me replicare in una capitale europea così importante come Parigi sono un ragazzo molto determinato che sogna molto passo le notti in sogni a sognare ad occhi aperti ho lasciato Napoli a 18 anni ho aperto il mio secondo ristorante a Parigi e chissà perché perché il quapasi dice il francese non aprire nelle migliori capitali europee Napoli la porto nel cuore i quartieri spagnoli sono a Parigi ho un grande successo e spero presto in tutte le capitali d'Europa grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.